Lucy, Riverside si prende cura dei suoi, finché non esige qualcosa, poi non sai mai cosa accadrà. Se l'assassina è del quartiere sud, deve essere nei paraggi e avrà ancora la collana. La collana è del quartiere, dove si prende cura dei suoi, finché non esige la collana. La collana è del quartiere, dove si prende cura dei suoi, finché non esige la collana. La collana è del quartiere, dove si prende cura dei suoi, finché non esige la collana. Il quartiere è del quartiere, dove si prende cura dei suoi, finché non esige la collana. Grazie a tutti 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 Lo sento Posso ancora sentire il tocco di Orion La sua fede scorre in me Cosa succede? C'è qualcuno? Esci, non ti farò del male Sembra proprio che non fosse nulla Non sono più sicuro di niente Ho i suitori freddi Qualcosa non va Avrei voluto essere là a incendiare la rocca del balunno Grazie a tutti Qua c'è la buzza terribile Qua c'è la buzza? Qua c'è la buzza? Qua c'è la buzza? Ero l'indicazione Ero l'indicazione Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo sta facendo tardi. Grazie a tutti. 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 Maledetta città. Grazie a tutti. 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 a tutti.